Il monaco che non aveva un passato nella nuova edizione ampliata con prefazione di Ivan Nossa, che potete acquistare tranquillamente su Amazon o su Il Giardino dei Libri. Ed ecco, prima di leggervi il primo capitolo, la quarta di copertina. Una vacanza a New York programmata da tempo. La sveglia che non suona. L'inutile corsa in aeroporto. E quando la prospettiva di partire sembra ormai sfumata, l'inaspettato regalo di uno sconosciuto. Il protagonista di questo libro non sa che quella mattina, quando con leggerezza accetta la curiosa proposta di un viaggio in Tibet, sta dicendo di sì al destino. Nulla accade per caso. E ora che gli ingranaggi si sono messi in moto, i suoi occhi stanno per aprirsi su una realtà impensabile. Da un incontro fortuito, prende infatti avvio un percorso iniziatico in un monastero tibetano, dove, grazie alle sagge parole di un anziano monaco, scopriremo verità sconvolgenti e l'esistenza di una realtà fino ad ora inimmaginabile. Una storia illuminante che stimolerà la nostra curiosità, guidandoci verso la scoperta di un mondo inesplorato, con lo scopo di aiutarci a rompere le barriere che ci tengono chiusi nel nostro piccolo mondo costruito su false credenze, e spingerci con forza oltre ogni confine conosciuto al fine di rinascere ad una nuova vita. Il tutto condito dà un finale inaspettato e sconvolgente che darà nuova luce all'intera storia e allargerà i nostri orizzonti, permettendoci di guardare al mondo come mai abbiamo fatto prima. Il monaco che non aveva un passato di Paolo Marrone Un'esperienza indimenticabile attraverso un percorso iniziatico in un monastero tibetano Il viaggio Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno Guy de Maupassant Era da molto tempo che sognavo di visitare New York Ho sempre amato viaggiare e nei precedenti tour negli States avevo già avuto modo di visitare diverse città come Los Angeles, Miami, Tampa ma a parte una breve sosta di transito nell'aeroporto John Fitzgerald Kennedy New York era ancora sulla mia lista delle città da visitare Così, quell'estate, decisi di regalarmi un bel viaggio nella Grande Mela nella città che non dorme mai Non vedevo l'ora di perdermi tra le strade di Manhattan fare shopping ammirare la maestosità dell'Empire State Building cenare in uno dei caratteristici e suggestivi ristoranti con vista sul ponte di Brooklyn Sarei partito da solo Ero da poco uscito da una lunga convivenza durata ben dieci anni e avevo trascorso gli ultimi tre mesi a rimettere insieme i pezzi della mia vita Adesso desideravo solo perdermi in un viaggio che mi avrebbe aiutato a liberare la mente e a ricaricare le batterie per aprire con rinnovato entusiasmo un nuovo capitolo della mia vita Avevo bisogno di guardare la mia esistenza da un altro punto di vista e la lontananza dai luoghi a me familiari avrebbe sicuramente creato quel distacco necessario per vedere tutta la storia con occhi nuovi Leggevo molto in quel periodo e da qualche tempo avevo scoperto un nuovo punto di vista attraverso il quale guardare gli avvenimenti della vita Grazie alla lettura di diversi autori come Napoleon Hill, Charles F. Honnell, Thomas Troward stavo finalmente arrivando a comprendere che ognuno di noi è l'unico e solo responsabile della propria realtà L'idea che attraverso il pensiero ognuno di noi fosse in grado di determinare il proprio destino da un lato mi rendeva euforico dall'altro mi incuteva non poco terrore in considerazione del fatto che stando alle teorie di questi autori gran parte dell'influenza sulla realtà viene esercitata a livello inconscio quindi totalmente al di fuori del nostro diretto controllo La cosa di cui mi rendevo sempre più conto era che per una strana legge dell'universo le persone che fanno parte della nostra vita rappresentano sempre e comunque il riflesso di qualche aspetto del nostro essere Se cambiamo al nostro interno anche il mondo esterno deve necessariamente cambiare Ero assolutamente cosciente del fatto che la mia recente separazione l'avevo creata io e che tutto questo stava accadendo in risposta a qualche tipo di trasformazione interna del mio essere Ma quest'idea non mi confortava affatto considerando che in fin dei conti era una situazione che stavo subendo Rivedendo la fine della storia da questo punto di vista era in dubbio che il percorso di crescita personale e spirituale che avevo intrapreso era stato la causa di tutto e che ora stesse in qualche modo demolendo il mio vecchio mondo per far posto a qualcosa di diverso che rispecchiasse il mio nuovo stato interiore Anche se intuivo che era così che doveva andare la cosa non mi consolava Perché avrei preferito che il mio subconscio mi avesse interpellato prima di scombussolare la mia vita in quel modo così repentino Era proprio quella sensazione di mancanza di controllo che mi spiazzava e devo ammetterlo mi impauriva anche un po' Quel viaggio di due settimane quindi lo vedevo come un prezioso momento di riflessione del quale avrei avuto la possibilità di azzerare il passato almeno così speravo e cominciare un nuovo percorso totalmente rinnovato e senza più ancore o freni emotivi La valigia era pronta o quasi Riguardai la lista delle cose da portare e tranne alcuni prodotti per la cura personale che avrei messo in borsa all'indomani mattina era davvero tutto pronto Decisi di portare con me anche un piccolo registratore portatile di quelli che stanno in un taschino per prendere appunti vocali durante il viaggio Non amo molto scrivere pertanto pensai sarebbe stato più pratico e veloce registrare piccole note vocali per fissare qualsiasi idea o impressione mi fosse venuta in mente durante il mio soggiorno a New York Insomma solo una notte mi separava da quello splendido viaggio e non vedevo l'ora di partire Avevo l'imbarco alle 9.50 così impostai la sveglia per le 6.30 e mi misi a letto eccitato come un bambino che si addormenta la notte dell'epifania pregustando i regali che troverà al suo risveglio Un raggio di sole si infilò tra le fessure della persiana e mi colpì sul viso facendomi destare dal mio sonno profondo Aprì gli occhi stupito del fatto che la sveglia non avesse ancora suonato così guardai l'orologio sul comodino per vedere se potevo sonnecchiare ancora un po' prima di alzarmi Mio Dio! Scoprì con terrore che erano le 9.25 per qualche strammaledetto motivo la sveglia non aveva suonato Guardai per sicurezza altri orologi che avevo in casa e tutti mi confermarono l'amara verità Era drammaticamente chiaro che avevo perso l'aereo Mi preparai in fretta e furia per andare in aeroporto e verificare se c'era la possibilità di prendere un altro volo Non ricordo quanto tempo impiegai per raggiungere l'aeroporto in macchina ma sono sicuro di aver battuto qualsiasi record preesistente Ci misi un po' a trovare l'ufficio della compagnia del mio volo ma appena lo individuai entrai trafelato e mi rivolsi alla prima impiegata che vidi senza preoccuparmi di verificare se fosse il mio turno Dopo un rapido controllo al terminale la signorina mi comunicò l'amara verità Signore mi dispiace ma la tipologia del suo biglietto non prevede il cambio di volo Vero avevo acquistato un last minute a un prezzo stracciato e ora mi rendevo conto che invece di risparmiare avrei pagato molto più del previsto se avessi deciso di prendere un altro aereo con la stessa destinazione Mi scusi ma non c'è un modo per avere un altro volo magari pagando una piccola differenza chiesi anzi supplicai nella vana speranza di suscitare compassione o almeno di risvegliare un po' distinto materno nel cuore della giovane impiegata che avevo di fronte mi dispiace signore ma come le ho detto il suo biglietto non è convertibile né rimborsabile l'unica soluzione è quella di acquistare un nuovo biglietto se vuole non osavo immaginare il costo del nuovo biglietto considerando che in queste situazioni tu rappresenti la parte in difficoltà quindi più debole pertanto la norma è che ti spillano fino all'ultimo centesimo del prezzo di listino che per un volo del genere in piena stagione estiva può tranquillamente superare il migliaio di euro la parola sconto non è contemplata in questi casi provai a insistere dicendo che non potevo rinunciare al viaggio dato che il mio periodo di ferie sarebbe altrimenti andato sprecato non potendolo più modificare la risposta seppur pronunciata con un sorriso e con la massima gentilezza fu purtroppo sempre la stessa rassegnato stavo per tirar fuori la mia carta di credito per acconsentire al salasso e acquistare un nuovo biglietto quando dietro di me sentì una voce molto gentile che mi disse con un velato accento straniero se vuole forse io ho la soluzione al suo problema mi voltai e vidi un signore molto distinto sulla sessantina dai lineamenti orientali che aveva assistito a tutta la scena tra me e l'impiegata della compagnia aerea vede continuò io ho un biglietto per il Tibet il mio paese di origine dove mi sarei dovuto recare insieme a mia moglie per un soggiorno di una settimana in un monastero tibetano purtroppo mia moglie alcuni giorni fa si è rotta una gamba cadendo e quindi siamo impossibilitati a partire io ero qui per chiedere il rimborso dei biglietti ma mi hanno appena detto che non è possibile ottenerlo così a ridosso dalla partenza mentre è possibile trasferire il viaggio ad altre persone so che si tratta di una vacanza del tutto diversa il Tibet non è l'America ma se desidera fare un'esperienza davvero nuova le cedo volentieri tutto il pacchetto soggiorno compreso non deve pagarmelo piuttosto che buttarlo via preferisco offrire questa opportunità a un'altra persona e lei non so perché mi ispira simpatia io e la mia signora saremmo davvero lieti se lei volesse accettare il Tibet un soggiorno in un monastero tibetano stavo per ringraziare e rifiutare l'offerta ma qualcosa dentro di me mi trattenne dal farlo ricordai di aver letto un articolo che il caso non esiste e che qualsiasi evento capita sempre e comunque per qualche valido motivo anche se nel momento non si riesce a vederlo ragionai sul fatto che tutta una serie di episodi apparentemente casuali mi avevano portato a ricevere quell'offerta la mia sveglia non aveva mai perso un colpo prima di allora e la probabilità di incontrare un signore all'aeroporto che mi offrisse in regalo un biglietto per una vacanza in Tibet soggiorno compreso era pressoché vicina allo zero per non parlare della povera signora che si era rotta una gamba proprio a pochi giorni dalla partenza in effetti qualche mese prima vedendo un documentario in tv avevo espresso il desiderio di visitare un giorno il Tibet ma non mi sarei mai aspettato che l'universo mi prendesse così in parola e arrivasse ad architettare tutto quel trambusto per costringermi a partire così repentinamente per un viaggio che in tutta sincerità non so se avrei mai deciso di intraprendere una vocina mi diceva che accettare l'offerta era l'unica cosa sensata che avessi potuto fare in quel momento non perché fosse gratuita o perlomeno non solo sentii infatti che non era il caso di continuare a contrastare le forze del destino che a quanto pare mi volevano portare a tutti i costi in Tibet rabbrividi al pensiero di chissà quali altre peripezie avrei dovuto affrontare se avessi deciso di continuare il mio viaggio verso New York accettai allora la proposta di quel signore ringraziandolo per la generosa offerta New York in fin dei cotti poteva aspettare la partenza era prevista da lì a sette giorni giusto il tempo necessario per richiedere il visto d'ingresso per la Cina la mia vacanza sarebbe stata di una sola settimana invece delle due programmate ma non aveva importanza pensai anche questo evidentemente rientrava nei piani che il destino aveva predisposto nei miei confronti a pensarci bene due settimane di austera vita monacale sarebbero state davvero troppe per un irrecuperabile pigro e abitudinario cittadino del mondo occidentale l'anziano signore mi spiegò mentre attendavamo il nostro turno per cambiare l'intestazione sui documenti di viaggio che il soggiorno prevedeva una settimana a stretto contatto con uno dei più anziani e saggi monaci del monastero i cui insegnamenti si basavano su antichissime conoscenze tramandate nei secoli all'interno di alcuni monasteri e rivelate solo ad una ristritta cerchia di monaci eletti tali insegnamenti assicurò mi avrebbero avviato alla comprensione della vera natura del mio essere mi disse anche che non mi sarei dovuto preoccupare per la lingua perché da diversi anni alcuni dei monaci tra cui il mio futuro maestro avevano intrapreso lo studio delle lingue occidentali per cui avrei potuto comunicare in inglese senza problemi lo ascoltavo interessato ma anche un po' dubbioso perché non mi era chiaro per quale strano motivo insegnamenti così riservati venissero rivelati con tale facilità al primo turista straniero che capitava da quelle parti mi sembrava però scortese contraddire la sua tesi pertanto a noi facendo finta di credere senza riserve a tutto quello che mi stava dicendo per me era più che sufficiente sapere che mi sarei riposato forse più che a New York e che avrei quindi avuto la possibilità di dedicare del tempo alle mie riflessioni personali sbrigate le pratiche dell'agenzia gli porsi la mano per ringraziarlo e congedarmi da lui nel darmi la sua mano però serrò la mia in modo molto energico e guardandomi negli occhi con fare serio mi disse che doveva comunicarmi alcune informazioni molto importanti sul mio viaggio pertanto chiese di potermi parlare in un luogo appartato il tutto mentre continuava a tenere ben stretta la mia mano devo dire che rimasi di stucco anche un po' preoccupato per quel gesto improvviso ma sentendomi in qualche modo in debito nei suoi confronti per il dono ricevuto acconsentii proponendogli di sederci a prendere un caffè nel bar di fronte all'agenzia in fondo non mi sembrava così pericoloso e comunque mi sentivo tranquillo trovandomi all'interno di un aeroporto affollatissimo dato il periodo estivo appena seduti non mi diede il tempo di chiedergli cosa avesse da rivelarmi di così importante che esordì dicendo esiste un'antica profezia le cui origini si perdono nella notte dei tempi secondo la quale sarebbe arrivata l'epoca in cui le antiche conoscenze custodite in alcuni monasteri tibetani sarebbero state divulgate a tutto il mondo occidentale al fine di agevolare il percorso di risveglio dell'intera umanità secondo la profezia continuò un potente esercito straniero avrebbe invaso il tibet causando una massiccia devastazione dei suoi monasteri e la fuga di migliaia di monaci quello avrebbe segnato senza alcun dubbio l'inizio del processo di divulgazione della conoscenza fu così che alcuni anni dopo l'invasione del tibet da parte dell'esercito cinese io e mia moglie fummo tre primi ad essere scelti insieme a pochi altri per frequentare i monasteri risparmiati dalla devastazione nei quali quelle conoscenze erano state conservate da oltre vent'anni ci richiamo periodicamente in tibet per ricevere gli insegnamenti da un anziano monaco custode di quell'antico sapere nessuno conosce la vera motivazione dei nostri viaggi perché agli occhi delle autorità siamo solo turisti che amano trascorrere le proprie vacanze in quei luoghi non credevo alle mie orecchie ma continuai ad ascoltare senza interromperlo coloro che sono pronti a ricevere gli insegnamenti mi disse vengono prescelti e chiamati attraverso modalità che agli occhi di un profano appaiono del tutto casuali possono accadere coincidenze imprevisti ed eventi fortuiti di ogni genere con l'unico scopo di portare i prescelti a contatto con chi dovrà tramandare loro l'insegnamento così è successo anche a me e a mia moglie non so con esattezza il motivo per cui sono stato scelto ma posso immaginare che sia a causa delle mie origini e quindi della mia conoscenza della lingua tibetana all'epoca infatti nessun monaco era ancora in grado di parlare lingue straniere in genere però non è possibile conoscere con certezza il motivo per cui si è scelti perché dietro tutto questo c'è una precisa e imperscrutabile regia divina per mezzo della quale l'antica profezia si sta compiendo con infallibile puntualità e precisione la storia seppur affascinante rasentava l'incredibile conoscenze che avrebbero agevolato il percorso di risveglio dell'umanità e perché proprio io in base a quali considerazioni ero stato scelto per un compito così grande e impegnativo per un attimo pensai che forse sarebbe stato meglio andare ad acquistare quel biglietto per New York prima che fosse troppo tardi poi però ricordando quanto era successo quella mattina il mio iniziale scetticismo pian piano lasciava il posto a un interesse sempre più forte per ciò che le mie orecchie stavano ascoltando se quell'uomo non era un pazzo il concatenarsi di tutte le strane coincidenze che quella mattina mi avevano condotto fino a lui trovava all'improvviso una plausibile spiegazione forse inaccettabile per una mente razionale come la mia ma di sicuro l'unica in grado di mettere a posto ogni singolo tassello di quel puzzle intricato quell'uomo poi non mi sembrava per niente pazzo anzi sentivo che c'era qualcosa di vero e profondo in quello che mi stava dicendo una delle cose che notai mentre ascoltavo le sue parole infatti fu l'immensa serenità e profonda calma che trapelava in modo evidente dal suo parlare lento e tranquillo ebbi la sensazione che quell'uomo fosse del tutto distaccato da quello che succedeva intorno a lui come se vivesse in un oceano di tranquillità tutto suo mi accorsi poi a un certo punto che per qualche strano motivo quella serenità aveva contagiato anche me perché tutta l'agitazione di quella mattina che sentivo addosso fino a pochi minuti prima era semplicemente svanita non mi importava più di aver perso la possibilità di visitare New York e cosa davvero incredibile avevo la netta sensazione di essere stato io a volere fortemente quel viaggio in Tibet l'incidente occorso a mia moglie continuò è un evidente segnale che il nostro mandato è giunto al termine ed è arrivato il momento di passare le consegne a qualcuno più giovane di noi appena l'ho vista entrare in quell'agenzia ho subito capito che lei era la persona giusta ho avvertito dentro di me un forte impulso a proporle il viaggio e quando ho sentito che aveva perso il suo volo non ho avuto più alcun dubbio sono convinto che lei è il prescelto che prenderà il mio posto si senta onorato di questo perché verrà conoscenza di cose che la sua mente non oserebbe nemmeno lontanamente immaginare cose che la renderanno una persona diversa e mi creda cambieranno per sempre la sua vita detto questo non mi lasciò la possibilità di replicare perché dopo essersi alzato mi ringraziò facendo un breve inchino con le mani giunte all'altezza del petto per poi allontanarsi con passo veloce prese una scala mobile che portava al piano inferiore e senza voltarsi mai indietro scomparve lentamente dalla mia vista a quel punto ordinai un caffè e rimasi lì da solo in quel bar dell'aeroporto a meditare su quanto era accaduto i giorni che mi separavano dalla partenza passarono davvero in fretta il visto per l'ingresso nel territorio cinese fortunatamente non subì intralci o ritardi e gran parte del mio tempo lo passai a cercare su internet qualsiasi notizia foto o articolo riguardante il tibet e la sua storia in particolare cercai qualunque informazione fosse disponibile sui monasteri tibetani e sul tipo di vita che si svolgeva al loro interno da alcune letture capì che quel popolo messo a dura prova dall'invasione cinese tentava con fatica di mantenere intatte le proprie tradizioni culturali e religiose e di tramandarle con ogni mezzo alle future generazioni i pochi monasteri buddisti risparmiati dalle rappresaglie cinesi rappresentavano uno dei principali luoghi all'interno dei quali la tutela di queste antichissime tradizioni poteva in qualche modo essere assicurata arrivò così il momento di preparare la valigia fortunatamente la temperatura nei mesi estivi nell'altopiano del tibet nonostante la sua altitudine media di oltre 4.000 metri è abbastanza mite pertanto non dovetti mettere in valigia niente di così diverso rispetto al vestiario previsto per New York a parte qualche indumento un po' pesante per far fronte alle temperature notturne più rigide a causa della forte escursione termica caratteristica di quei luoghi il giorno della partenza era finalmente arrivato e questa volta impostai ben tre sveglie la sera prima per scongiurare il rischio di perdere anche questo volo il viaggio durò oltre venti ore con due scali intermedi destinazione finale Lhasa capitale del tibet al mio arrivo in aeroporto un addetto dell'agenzia di viaggi mi aspettava mostrando un grosso cartello con su scritto il mio nome scambiati i convenevoli di rito mi accompagnò fuori dall'aeroporto dove c'era ad attendermi un monaco del monastero dove ero diretto scoprì così che avrei dovuto affrontare altre tre ore di viaggio su di un pulmino abbastanza malmesso attraverso le immense valli dell'altopiano a quote che si aggiravano tra i 3.800 e gli oltre 4.500 metri ero l'unico passeggero di quel viaggio e dall'incerto e balbettante inglese che il conducente mostrò in risposta ad alcune mie domande mi fu subito chiaro che quel monaco non era tra coloro che avevano studiato l'inglese rassegnandomi al fatto che scambiare due chiacchiere sarebbe stato pressoché impossibile rimasi in silenzio ad ammirare la bellezza e la particolarità dei luoghi che attraversavamo il panorama che si presentava ai miei occhi era per me qualcosa di assolutamente inusuale e straordinario le strade che percorrevamo attraversavano ampie valli circondate da catene montuosi imponenti tutto in quei posti sembrava immenso e il cielo era di un blu cupo e profondo quasi irreale per chi come me era abituato a cieli di un azzurro chiaro e limpido persino il sole sembrava più grande e luminoso ma probabilmente mi stavo facendo condizionare dal fatto di sapere di essere a oltre 4.000 metri di altitudine l'aria era molto più rarefatta di quella a cui siamo abituati e la sensazione era che fosse più leggera non saprei trovare un termine più adatto per descriverla all'inizio si tende a fare respiri più corti e frequenti per sopperire al minore ossigeno disponibile ma dopo qualche ora ci si abitua e non ci si fa più caso a un certo punto intuì che stavamo per arrivare al monastero oltre al fatto che erano quasi trascorse le tre ore di viaggio previste l'indizio più importante fu che il pulmino aveva appena lasciato la carreggiata principale per immettersi in una piccola strada non asfaltata che si arrampicava su per la montagna alla nostra destra una strada così accidentata non poteva avere molte destinazioni pensai se non quella verso un monastero tibetano arroccato su quel monte passai gli ultimi quindici minuti del viaggio con il collo proteso a guardare in avanti aspettandomi di vedere apparire il monastero da un momento all'altro all'uscita di una delle innumerevoli curve che componevano quel sentiero finalmente la mia attesa fu premiata dopo una curva a gomito in fondo all'ultimo tratto in salita di quel viale polveroso si ergeva enorme e imponente come un gigante di pietra addormentato il monastero tibetano dove avrei trascorso la mia vacanza era un po' diverso da come me lo ero immaginato in realtà non si trattava di un unico edificio ma di un vero e proprio comprensorio all'interno del quale scoprì vivevano innumerevoli persone impegnate nei compiti più svariati ebbi così la conferma di quello che avevo letto nei giorni precedenti la mia partenza i monasteri in tibet sono in realtà veri e propri villaggi che pullulano di persone che ne curano tutti gli aspetti il monastero non è solo un luogo di culto ma un punto di riferimento sociale e culturale per tutta la popolazione che vive nella zona d'altronde a pensarci bene non poteva essere altrimenti considerando le condizioni estreme di quei luoghi sia in termini di isolamento che di clima pertanto la costituzione di comunità sociali attorno ai centri di culto rappresentava forse l'unico modo per garantire a tutti il soddisfacimento dei propri bisogni non solo spirituali e culturali ma anche e soprattutto materiali il comprensorio era appoggiato su un lato della montagna e guardandolo dal basso si potevano intravedere diversi edifici posti lungo il pendio fino a diverse decine di metri più in alto rispetto al grande edificio centrale alcune costruzioni sembravano incastonate nella roccia dando l'impressione di essere state letteralmente scolpite all'interno della parete rocciosa un'opera imponente che dominava con mastodontica regalità l'intera valle sulla quale la montagna si affacciava il pulmino accostò proprio davanti al grande portone d'ingresso e fummo subito circondati da un nugolo di giovani monaci tutti rigorosamente rasati a zero e vestiti del tipico saio color porpora non permisero che fossi io a portare la valigia e con ampi sorrisi e inchini mi accompagnarono festosamente all'ingresso dell'edificio mai nei miei innumerevoli viaggi mi era stata riservata un'accoglienza tanto calorosa entrai così nel grande palazzo che dominava l'intero comprensorio e mi trovai all'interno di un'enorme sala dal soffitto altissimo sorretto da lunghe colonne variopinte con enormi drappi rossi che pendevano dall'alto le pareti della sala erano interamente ricoperte da dipinti raffiguranti immagini sacre disegnate sullo sfondo di colline verdi e prati in fiore una grande statua dorata del Buddha in fondo alla sala circondata da decine di candele e incensi faceva supporre che quello fosse un altare e che la sala in cui mi trovavo era il principale luogo di preghiera del monastero rimasi per un po' al centro di quell'enorme sala a guardarmi intorno con la bocca aperta tante e tali erano le cose da ammirare a un certo punto sentì una voce che mi diceva con una buona pronuncia inglese benvenuto nel nostro monastero spero abbia fatto buon viaggio mi girai in direzione della voce e vidi davanti a me un monaco che mi guardava sorridendo in attesa della mia risposta preso dalle meraviglie del posto non mi ero accorto del suo arrivo certo grazie per la magnifica accoglienza risposi ricambiando il sorriso finalmente sentivo parlare inglese e la cosa mi rassicurò non poco dato che fino ad allora tranne l'addetto all'aeroporto non ero ancora riuscito a scambiare due parole con nessuna delle persone del posto mi spiegò che lui era l'addetto all'accoglienza dei nuovi adepti e che conosceva benissimo i coniugi che mi avevano ceduto il soggiorno si rammaricò per l'incidente occorso alla signora ma quando tentai di parlargli delle incredibili circostanze grazie alle quali ci eravamo incontrati interruppe il mio discorso con un laconico accade sempre ciò che deve accadere ebbe la netta sensazione che l'evidente stranezza dei fatti che stavo raccontando non lo impressionasse affatto e che quella fosse solo una risposta di cortesia pronunciata per celare una sua visione totalmente differente dell'accaduto deve essere molto stanco mi disse l'accompagno nella sua camera dove potrà consumare la cena e fare un buon sonno ristoratore per essere pronto domani mattina ad incontrare il maestro aveva ragione ero proprio stanco per non dire distrutto apprezzai molto la cortesia che mi riservò lasciandomi la possibilità di riposare e starmene un po' da solo non avrei gradito in quel momento alcun incontro o colloquio con chi che sia fosse anche stato sua eccellenza il gran maestro in persona la stanza a me riservata era situata in un'altra ala al piano superiore dell'edificio raggiungibile attraverso una ripida scala in pietra la piccola porta in legno della mia camera affacciava insieme a tante altre su di un lungo corridoio quello doveva essere di sicuro uno dei dormitori del monastero la stanza era piccolina con una minuscola finestra posta in alto sulla parete lungo cui era appoggiato il letto una semplice rientranza nel muro sulla parete laterale dava tutta l'impressione di essere l'armadio dove avrei potuto riporre le mie cose una sedia e un piccolo tavolo di legno sul lato opposto completavano l'arredamento nient'altro il bagno mi fu detto era in comune e lo avrei trovato in corrispondenza dell'ultima porta in fondo a sinistra di quel lungo corridoio quella fu la prima volta da quando avevo lasciato il mio paese che mi pentì amaramente di non aver acquistato quel biglietto per New York ma ora ero lì e rimpiangere il passato non aveva alcun senso appena entrati nella stanza il monaco mi chiese con fare molto gentile di consegnargli tutti gli orologi e i cellulari in mio possesso tanto mi disse i cellulari non funzionavano da quelle parti e degli orologi non avrei avuto bisogno non fui per niente contento di separarmi dalle mie amate cose ma consentii senza protestare in fondo ricordai a me stesso era inutile lamentarsi visto che ero stato io a scegliere di fare quel viaggio almeno così preferivo credere il monaco si congedò con un ampio sorriso dopo avermi detto che l'ora della sveglia l'indomani mattina sarebbe stata alle cinque in punto e che la cena mi sarebbe stata portata a breve qualche minuto più tardi infatti due giovani monaci entrarono portando il primo la mia valigia e l'altro una ciotola di legno contenente la mia cena uscirono subito dopo facendomi ampi e ripetuti inchini che io puntualmente ricambiai sforzandomi di muovere il capo il più possibile all'unisono con i loro movimenti rimasi da solo seduto sul bordo del letto in quella minuscola cella di un monastero tibetano arroccato su di una montagna dell'Himalaya e non so quante migliaia di metri sul livello del mare a chissà quante centinaia di chilometri dal primo agglomerato urbano a chiedermi quanto tempo avrei resistito prima di fuggire e prendere il primo volo disponibile per il mio amato paese avete ascoltato la terza puntata di la voce dei libri dove le parole prendono vita speaker Alberto Lory chiedermi e